Ben trovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Presidente Giuliani, con la sua rielezione, mette in campo una sfida importante, quella che lei ha sempre portato avanti, quella di portare avanti le istanze e le esigenze dei comuni montani, dei comuni limitrofi. Quali sono le nuove sfide che occorre affrontare in questo momento, anche in vista delle esigenze dei piccoli comuni che chiedono aiuto? Sì, diciamo che io sono uscito dal congresso dell'UNCEM Toscana rafforzato, io e rafforzato l'UNCEM. Devo dire che c'è stata tantissima partecipazione di molti sindaci, quasi oltre 180 sindaci. Abbiamo visto la partecipazione non solo dei comuni montani, ma anche dei comuni rurali e direi anche di comuni medio-piccoli che non sono né rurali né montani. Questo significa che i comuni hanno bisogno di una rappresentanza, hanno bisogno di un loro sindacato, hanno bisogno di qualcuno che le protegge e porta avanti le istanze di queste comunità. Questo, oltre che fare piacere, oltre che rendere orgogliosi rispetto a un percorso fatto, ci dà una forza per lanciare le nuove sfide. Le nuove sfide saranno un confronto serrato con la Regione, sul fronte della riforma istituzionale, del futuro dei piccoli comuni e dell'Unione, su come riusciamo a governare i servizi in un momento di crisi e soprattutto come riusciremo a garantire sul territorio lo sviluppo. Lo sviluppo vuol dire attività, vuol dire commercio, turismo, cultura e soprattutto fare in modo che le nostre comunità crescano. Quindi è una sfida interessante, per un verso, dall'altra entusiasmante, perché alla fine se riusciamo a portarla in fondo avremo veramente un risultato importante, però dall'altra c'è anche preoccupazione, perché c'è da un lato una crisi internazionale e nazionale e c'è poi una gestione da parte del Governo e delle Regioni di tutti i rapporti con questi territori e piccoli enti che non è dei migliori e quindi il rischio è che poi a pagare siano i cittadini e le famiglie e le imprese. Quindi noi la sfida la faremo, io poi sono diventato anche Vice Presidente nazionale, quindi è un percorso importante. Vorrei sottolineare che noi abbiamo anche riformato l'UNCEM, perché oltre al Presidente ci sono sei Vice Presidenti, e un Consiglio regionale dell'UNCEM formato da 40 sindaci. Quindi devo dire che si rafforza l'UNCEM, si rafforza la sfida e soprattutto siamo pronti al confronto. A proposito invece del decreto sui enti locali, che in materia di legge di stabilità, quali sono le novità che possono sorgere per i comuni e montani, se ci sono delle problematiche che il territorio montano ritrova in questo decreto e quali sono le opportunità da accogliere? Diciamo che noi ci aspettavamo un decreto diverso. Noi da tempo abbiamo chiesto al Governo di allentare il patto di stabilità in maniera decisa. Va tolto, va fatto in modo che i comuni sotto 5.000 non abbiano patto di stabilità, perché in montagna e nei territori rurali c'è bisogno di fare interventi, interventi sulle scuole, sulla difesa del suolo, sui servizi, sulle opere pubbliche, che vuol dire economia, vuol dire movimento, vuol dire dare lavoro, ma vuol dire che nei territori in montagna e in rurale il comune è la prima fabbrica, cioè il motore di sviluppo. Purtroppo abbiamo questo patto di stabilità che ci uccide, il Governo aveva promesso di allentarlo e non l'ha fatto, anzi devo dire che anche a causa del confronto con l'Anci hanno tolto del patto di stabilità, del margine di patto di stabilità ai piccoli comuni per dare alle città metropolitane e questo è anche scorretto e devo dire che i comuni sono in difficoltà perché poi nel decreto enti locali ci si aspettava un intervento sul fronte delle risorse, ridare ai piccoli comuni delle risorse trasferite per chiudere i bilanci e questo non è avvenuto. Quindi luce e ombre noi ci auguriamo che il Governo capisca che non si può tagliare solo ai comuni, non si può tagliare solo ai piccoli comuni che sono il 2,5% dell'indebitamento generale e soprattutto i comuni incidono sulla spesa della pubblica amministrazione per il 7%. Quindi forse è il caso di tagliare da altre parti, di tagliare al centrale, di tagliare dove sono veramente gli sprechi. A questo proposito lei scriverà una lettera a Renzi in materia proprio di distesto dei comuni, dei piccoli comuni. Quello che si aspetta, qual è quello che chiede al Premier? Io sto facendo un tour sul territorio, stiamo facendo degli incontri, anche oggi stesso qui eravamo un incontro con i comuni. I comuni montani, rurali, io direi comuni medio-piccoli, stanno denunciando una situazione di stallo e del fatto che non riescono entro il 31 luglio a approvare i bilanci preventivi, ma non perché non lo vogliono approvare o non sono capaci, ma perché non hanno le risorse per chiudere i bilanci, garantire servizi essenziali e garantire gli impegni presi rispetto alla comunità. Quindi noi chiediamo, io ho scritto una lettera dove chiederò a nome dei comuni toscani che il governo proroghi intanto l'approvazione del bilancio dal 31 luglio a settembre per dare più tempo per far quadraconti, ma nello stesso tempo intervenga in maniera decisa perché se ci sono dei comuni che non riescono più a garantire servizi essenziali, questo è mortificante per un sindaco e anche, voglio dire, non dare risposte ai cittadini, quindi si rischia di avere cittadini serie A e di serie B e tutti pagano le tasse, quindi bisogna ai comuni dare una boccata d'ossigeno perché riescano a chiudere i bilanci e garantire i servizi e lo sviluppo e questo lo chiediamo con forza al governo, lanciamo un appello perché non so quale governo si possa permettere che la maggior parte dei comuni, piccoli e medio piccoli, vadi non default e quindi rischiano il fallimento, vorrebbe dire un disastro per le comunità e vorrebbe dire un disastro per i territori, questo è inaccettabile e quindi noi lo chiediamo con forza facendo una battaglia perché dobbiamo garantire il futuro di queste comunità. All'interno di questo dibattito oggi con i comuni è uscito anche, sebbene un accenno, la questione dell'Unione dei Comuni del Mugello che hanno sottoscritto con il Consorzio di Bonifica del Mediovaldarno è una convenzione che lei comunque ha criticato perché esula dalle linee generali quelle poste dalla regione quelle in cui insomma dovrebbero vedere tutti i comuni in qualche modo lavorare insieme. Sì, io ho criticato soprattutto il comportamento del Consorzio di Bonifica che nei confronti dell'Unione del Mugello, del Val di Bisenzio e della Montagna Fiorentina si è comportata non in maniera corretta rispetto agli accordi firmati con Unce. Noi abbiamo sostenuto da tempo che il meccanismo della Bonifica doveva portare al fatto che le unioni come quella del Mugello che da sempre hanno gestito bene la Bonifica a Montagna trovando un punto di equilibrio fra il cittadino che paga la tassa e l'Unione che faceva i lavori doveva trovare nel Consorzio molto più vasto un momento di sintesi e soprattutto non si doveva come si dice dare tutto al Consorzio ma l'Unione doveva mantenere la sua subdelega per poter garantire il rapporto con i cittadini questo non è avvenuto per scelta degli stessi sindaci ed è legittimo sceltile però io ho fatto alcune considerazioni dovute al fatto che distruggere quello che funziona a vantaggio di una cosa che non si sa se funziona andava ponderata meglio andava verificata meglio perché poi noi alla fine dobbiamo tutelare la bonifica montana e tutelare la bonifica nei territori montani e quando un cittadino paga una tassa ha diritto di vedere i risultati fino ad oggi eravamo riusciti a darglieli ora con i nuovi consorsi che sono questi mega consorsi il rischio che la decisione non sarà più sui territori ma sarà da tanta parte e quindi il rischio è di meno servizi e meno interventi e questo non ce lo possiamo permettere quindi io l'ho criticato tenendo conto che poi c'è l'autonomia dei sindaci a fare quello che ritengono più giusto diciamo che l'abbiamo avvertiti ecco l'abbiamo avvertiti di questo però poi ogni territorio sceglie il proprio destino più in generale qui nell'incontro con i comuni c'erano anche rappresentanti di presidenza dell'unione dei comuni quali sono le criticità che hai riscontrato cosa bisogna fare anche in virtù appunto di quelle gestioni associate di cui sempre si parla e in cui i comuni vogliono andare in quella direzione si diciamo è emerso intanto che l'unione è fondamentale in un momento dove non ci saranno più le province l'unione diventa quel punto di riferimento di ambito ottimale nei confronti della regione quindi tutti dicano andiamo avanti con l'unione però bisogna che la regione sostenga in maniera decisa le unioni ci metta dei soldi per poterle fare sviluppare e crescere e quindi aiutare i comuni a mettere insieme le funzioni associate avere un governo del territorio unitario avere un piano di sviluppo su tutte le unioni che permetta di guardare oltre e questo deve essere aiutato dalla regione quindi sburocratizzando semplificando e soprattutto tenendo conto che non tutte le unioni sono uguali e quindi di avere quella elasticità tale che permetta a tutti di crescere questo è quello che è venuto fuori oggi perché se questo non avviene il rischio è che le unioni invece che andare avanti rischiano di morire quindi si potrebbe innescare un bomba libero tutti da noso al territorio e allo sviluppo dell'intera Toscana dall'altro abbiamo anche chiesto risorse per le politiche della montagna ormai sono anni che il governo non mette soldi nella montagna la regione sempre meno e penso che un territorio montano che il 56% della regione non possa andare avanti se non si investe in montagna sulla difesa del suolo sui servizi e sullo sviluppo quindi qui viene fuori una richiesta alla regione di investire soldi sulla montagna perché ormai c'è urgenza di intervenire se non si vuole il default completo dell'intera montagna un altro problema che è ritornato a galla l'ha visto negli ultimi giorni quello delle poste italiane che non hanno riconfermato il blocco dei l'eliminazione di alcuni uffici postali praticamente quasi tutti tranne salvando cinque uffici postali la cosa è scandalosa noi abbiamo fatto una battaglia perché non avvenisse queste chiusure abbiamo fatto ricorso al Tare abbiamo fatto sistema con la regione per aprire dei tavoli regionali finite le elezioni guarda caso si ricomincia da capo io penso sia una presa in giro verso i cittadini e verso i territori noi ora ricominciamo la battaglia il 13 ci incontreremo tutti i sindaci e faremo riprenderemo un percorso di battaglia visto che c'è 60 giorni di tempo per le chiusure forse riattiveremo i percorsi al Tare però il dato di fatto è che i territori i sindaci le comunità non contano più nulla qualcuno a Roma decide di tagliare e si taglia c'è le elezioni si decide di interrompere perché potrebbe esserci danni elettorali e poi si ripiglia ecco io questo è un modo di gestire servizi verso i cittadini veramente allucinanti su questo l'uncemecè faremo la battaglia fino a fondo i sindaci sono determinati la gente è determinata e speriamo che qualcuno a Roma di poste soprattutto il governo capisca che prima di fare tagli si vada a vedere quali sono i disagi si vada a vedere cosa succede ai territori e soprattutto i servizi essenziali come poste non vanno tagliati a limite disponibili a mettersi a un tavolino e vedere come trovare soluzioni alternative però garantendo sempre servizi in quel territorio un'altra tematica quella delle province della città metropolitana lei ha detto appunto ci sarà comunque una collaborazione con la città metropolitana da un lato però dall'altra parte lei parlava di una problematica ancora del riordino delle province anche qui c'è un suo impegno direttamente a parlarne al governo mandare una lettera al premier tanto dispiace vedere che a livello nazionale si apre i giornali si apre i tavoli di concertazione e parlano solo della città metropolitana come in Italia esistesse solamente le città metropolitane quindi alla fine si rischia di creare un divario fra le città metropolitane e il resto del mondo io penso che sia necessario intervenire invece sulle province il governo prima quello Letta poi ora quello Renzi ha voluto mandare in default le province ha tagliato i soldi alle province per garantire servizi le province rischiano di andare in dissesto e intanto a pagare sono i territori io ho scritto perché la mia provincia di Pistoia ma vale per tutte non riesce a tagliare l'erba sulle strade provinciali creando problemi e pericolo e nel suo tempo è a rischio l'apertura delle scuole superiori a settembre ecco io penso che questo sia inaccettabile quindi facciamo tutte le riforme che vogliamo si vogliono allevare le province leviamole però quello che è inaccettabile è che si tolga i soldi per garantire servizi essenziali ai cittadini questo è inaccettabile al di là di quale sia l'ente che lo gestisce quindi ho lanciato un appello a Renzi che riveda questa cosa che rimetta i soldi alle province e soprattutto rimetta i soldi per tagliare l'erba e garantire le aperture delle scuole superiori perché non ci possiamo permettere di continuare in questa maniera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti per la prossima puntata di Zoom l'approfondimento di sesta rete Grazie a tutti